Mario Barbiero al termine della finale dell'Europeo, è un taglio d'argento, il tuo commento? Il mio commento ha due volti, il volto della finale è molto triste perché li avevamo ripresi anche al time break, è stata una partita difficile per noi dal punto di vista mentale perché loro sono una squadra molto compatta, lo sapevamo, lo sapevamo, sia in battuta che in rigiocata sono veramente forti, oggi hanno fatto delle rigiocate straordinarie. Nonostante questo li avevamo ripresi anche al time break per due volte e lì è uscita fuori qualche colpo che non ci aspettavamo e è andata così. La seconda faccia è che sono strafelice per questo percorso che i ragazzi hanno fatto tra mille difficoltà Sono felice per loro perché sicuramente questa competizione gli ha aggiunto qualcosa in più, hanno visto i loro parietà europei che cosa sono per cui è uno stimolo anche per loro a continuare a lavorare duramente, seriamente, a cercare di migliorarsi e farsi trovare alle prossime competizioni in queste condizioni mentali ed in migliori condizioni fisiche e tecniche.